grazie a tutti voi di essere qui innanzitutto grazie a cari pro factory perché come abbiamo visto ha mantenuto la promessa e quindi siamo qua da un lato per celebrare questo tre anni di lavoro i risultati ma dall'altro anche ovviamente per rilanciare perché qui si parla di metodo anche cioè come questi risultati sono stati ottenuti e qual è il metodo di lavoro su cui bisognerà continuare a fare perché è evidente a tutti che insomma milano è al centro di tanta discussione di tanto interesse sta dimostrando che il credere all'innovazione il credere alle tecnologie il credere a nuove modalità da dei frutti e il punto è proprio questo direi che oggi in italia è molto semplice fare l'elenco delle cose che non vanno o delle questioni su cui tutti noi la politica in primis dovrebbe misurarsi nel senso che ormai non c'è più destra e sinistra almeno da quel punto di vista è chiaro che tutti ritengono che si ci si debba occupare di equità sociale che ci si debba occupare di lavoro che ci si debba occupare di ambiente ora c'è da sperare che però si trovano soluzioni e soprattutto che venga vengano premiati coloro che le soluzioni le trovano perché come dicevo è fin troppo evidente che è veramente il momento di passare dall'elencazione del problema alle soluzioni normalmente non solo durante le campagne elettorali diciamo che è è impossibile sentire parlare soluzioni perché le soluzioni soprattutto quando si parla di innovazioni sono soluzioni che molto spesso portano al cambiamento e quindi il cambiamento spesso altrettanto spesso viene visto come un pericolo ecco però a milano no è confortante il fatto che dalle analisi che abbiamo a proposito del del lavoro creato negli ultimi dieci anni nella nostra città la maggior parte di nuovi jobs sono correlati al digitale è confortante perché molto spesso si passa anche un messaggio sbagliato e cioè il digitale toglie occupazione non è così ne toglie certamente in parte ma se ben utilizzata se ben pensata può creare altrettanto opportunità ecco noi quello che vediamo è esattamente questo quindi al di là di ringraziare carico factory per esserci concentrata in un breve tempo perché tre anni di vita sono sono anche niente di essersi concentrata su alcune discipline su alcune materie aver lavorato sulle scienze della vita sulla sostenibilità ambientale sul digitale per ecco quello che che mi premeva sottolineare è come nella nostra città negli ultimi dieci anni sono i lavoratori l'unità lavoro sono cresciute di 150 mila e la stragrande maggioranza nel mondo digitale quello che vediamo è che a mio parere altrettanto confortante e qui mette insieme l'esperienza di milano e cali pro factory è che c'è una crescita in particolare nel mondo femminile c'è una crescita e ci sono nuove opportunità in particolare in una fascia d'età che va tra i 20 e i 30 anni e c'è di nuovo una maniera molto precisa concentrazione di nuove opportunità su livelli di istruzioni più elevati il che non vuol dire ovviamente che non si debba conservare la capacità di supportare chi non ha strumenti capacità per per lavorearsi ma è altrettanto evidente che noi non è che dobbiamo perdere il senso del valore che l'istruzione e il lavoro danno la istruzione il lavoro sono capisaldi della nostra società e sono capisaldi fondamentali della nostra della nostra città ecco questo per concludere velocemente capite che quindi noi viviamo in una realtà contemporanea in cui io lo dico spesso insomma le città sono poi perfetti laboratori sociali di nuova socialità bene nel male ma è evidente che il cambiamento nasce da qua non c'è niente che in assoluto è positivo o negativo c'è la necessità di interpretare saggiamente in maniera contemporanea con capacità di essere svegli a cogliere l'opportunità di avere partner come cari pro factory che ti supportano ma milano volesse la dimostrazione che non bisogna guardare con paura ai tempi difficili che stiamo in cui stiamo vivendo ma bisogna guardare al lato positivo il lato positivo è che ripeto in questi questo momento storico grazie a tecnologie grazie alla collaborazione grazie a ambienti sociali che riconoscono le capacità e la apprezzano ecco le opportunità fioccano e oggettivamente a milano stanno affioccando e quindi noi continueremo tutti insieme a lavorare per sostenere chi non ce la fa perché è ovvio che questo bisogna fare ma certamente per darvi fiducia a chi ha voglia di fare e mostra una tensione e un atteggiamento positivo verso appunto questo momento di cambiamento che però l'unico momento in cui possiamo vivere grazie a tutti voi